Ciao ragazzi, questo è un nuovo video qui e via oggi vi faccio vedere un po' di roblo e non lo sai più in casa di voi, iniziamo bene bene, devo combattere la gentilità, scappa scappa c'è un po' di roblo e perché non c'è un po' di roblo e non c'è un po' di roblo e per me e perché non c'è un po' di roblo e per me e per me ma ma e e e e e e e e no, 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 non mi scatti no, no, nu... no, no, non l'ho mai detto no i dimenticare Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.